Ciao sono Marco Magro del sito giocaratennis.it e se anche a te capita ogni tanto di far tanta fatica per giocare il dritto che poi magari finisce a metà campo, probabilmente è perché muovi velocemente la racchetta tenendo ferma la parte sinistra del corpo o destra se sei mancino. In questo modo muovendo prima la racchetta e velocemente la palla la colpirai dietro quindi fai tanta fatica per tirarla di là. Per fare meno fatica dopo aver fatto l'apertura ruota un pochettino il busto verso la rete in questo modo la racchetta arriverà per ultima, tu sarai già girato e sarà molto più facile giocare una palla lunga e veloce e farai molta meno fatica. Quindi dopo la preparazione ruota un pochettino il busto e poi fai arrivare la racchetta.